Un agricoltore di 45 anni è rimasto ferito in modo molto grave nel pomeriggio nella contrada asiagese di Roncalto. L'uomo è stato travolto da una rotoballa di fieno del peso di alcuni quintali rimanendone schiacciato. La dinamica dell'incidente avvenuto pare durante le operazioni di scaricamento di un camion è ancora da ricostruire in modo esatto. Il ferito è stato portato d'urgenza con l'elissocorso del Suerm al San Bortolo dove è ricoverato in condizioni gravissime.